170.000 euro, a tanto ammonta la somma non versata al Comune di Rimini in questi primi mesi del 2018 relativa alla tassa di soggiorno incassata dagli albergatori. Una vicenda non nuova, da quando è stata introdotta l'imposta ha sempre trovato una parte di imprenditori del turismo che volutamente o distrattamente non l'hanno girata alle casse comunali. In questi primi mesi dell'anno i colpevoli sarebbero 20, per lo più sono hotel a tre stelle nel 75% dei casi mentre nei restanti tutte le altre categorie. L'amministrazione romagnola è già pronta però a correre ai ripari. Si pensi che la tassa di soggiorno vale per il suo bilancio 7 milioni e mezzo di euro. Secondo quanto emerso, d'accordo con la Procura, si procederebbe in questi 20 casi a una denuncia collettiva unica chance di recupero dopo che i numerosi solleciti da parte dell'ente sarebbero stati inutili. Prende posizione anche la riconfermata leader degli albergatori, Patrizia Rinaldis, che si scaglia violentemente contro i colleghi che non rispettano la legge i quali, a suo dire, metterebbero in atto una sorta di concorrenza sleale. Da 2014 ad oggi i casi di albergatori, per così dire furbetti, sono stati 65. La cifra totale evasa è stata di circa 427 mila euro, di cui solo 270 recuperati dal comune. Sarebbero stati indiversi che, pur di non pagare, hanno preferito chiudere la loro società a prendone un'altra.